Per me, vi avete fatto una spesa inutile, professore. No, ma questi garofani, donna Dorotea, sono un modesto omaggio alla vostra grazia. Non si può vivere più soli quando non si è più giovani. Abbiamo bisogno di qualcuno e di sentire che qualcuno ha bisogno di noi. L'ho capito oggi, io ho riflettuto molto e ho pensato a voi. Ma professore, io non credevo, non sapevo di aver disturbato fino a questo punto. No, Dorotea, cercate di capirmi. Non è il fuoco che io posso offrirvi, ma la cenere. Una cenere che conserva ancora un po' di calore, qualche fatiglia. Tu me parlate bene, se tante belle parole non le so dire, perché restano qua a dire, te le vedete. E anch'io vi ho bisogno di sentire la voce, di parlare con qualcuno.